Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sulla MrManage siamo qui abbiamo raggiunto i 100 troffei nello scorso episodio e proveremo ad arrivare a 200 in quest'altro episodio ehi ehi e vabbè tutti contro di me ma imparano già da piccoli a filmare ok direi di impegnarci un po di più perché va bene abbiamo un po di trofei però fino a un certo punto no dobbiamo sbrigarci ad ammazzare questo qua no eh e vabbè quanti ce ne sono vabbè dai sii pruna ciao guarda un po chi muore normander 2 no mi ruba l'energia mi ha rubato l'energia non c'è no che mia pushasse io respongo gli ultimi e ciao scappa scappa ma cosa spari l'automina fa schifo sempre per sempre no no dai dai e no ma non potete rubarmele proprio tutte lasciate almeno una cosa non era automina sì però muoio edda non è vero ooooh ooooh è tutto cool biocchè olè ciao wiki mmmm ok oh quanto ci vuole 3 in una partita perché qui adesso salendo con i trofei iniziano un po' inizia un po' la varietà dei prove cioè mentre prima c'era solo shelly che meglio grazie a dio non c'è qui adesso ci sono anche altri prove magari un po' più come dire decenti e sblocchiamo una nuova modalità nut brawl allora terza modalità buona 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 41 3 le da non fuori foto non credo sia così difficile oh e vabbè ma questo è illegale ciao ed è uno e vabbè nooo ciao e vabbè e non poteva mancare un po' di là pronti ok ci stavo ci sta speriamo di riuscire a vincere almeno cos'ho fatto oh 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 sta affettando un po' di pro vabbè sta molto bene no lo scendino cosa ho fatto max diciamo che non è andato bene come il primo però è andato almeno questo è successo se questo video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto commentate iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.